Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, siamo nella sede del PD Vogherese in compagnia di Enzo Garofoli, coordinatore del Comitato per la mozione Renzi-Martina. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qua. Dunque, intanto le chiedo, prima di tutto, da cosa nasce l'esigenza, l'idea di supportare la mozione Renzi-Martina? Beh, evidentemente c'è una sorta di incompiutezza rispetto al governo che è stato preseduto da Matteo Renzi e che secondo noi è un'esperienza tutto sommato positiva e che non andava interrotta in modo così brusco. E quindi è chiaro che l'esigenza è quella di, da un lato, favorire una persona che a nostro giudizio in questo momento merita di avere questa chance e poi di supportare eventualmente anche la persona come premier e quindi come futuro possibile capo del governo. Entrambe le mozioni, sia quella Renzi-Martina che quella Orlando, dedicano molto e ampio spazio all'Unione Europea e al futuro dell'Unione Europea. Nello specifico, qual è la posizione che ha preso questa mozione? Beh, evidentemente l'Unione Europea è in una situazione di grande fragilità. La Brexit, da un lato, evidentemente ha causato una perdita di fiducia nei confronti dell'Unione Europea da parte delle popolazioni in generale. Ci sono delle spinte di tipo autoctono molto pericolose che vanno ovviamente dal nostro punto di vista limitate. Per cui l'Unione Europea è una scelta imprescindibile così come lo è l'Euro e quindi noi intendiamo supportare un processo di integrazione europea ancora più accentuato, ovviamente nella giusta considerazione che vanno tenuti i popoli e le esigenze delle singole nazioni. Ecco, nella mozione Orlando sicuramente si mette sotto giudizio o comunque sotto analisi quello che è il risultato del Jobs Act e tutto ciò che concerne il mondo del lavoro e quelli che sono stati i risultati nel mondo del lavoro dovuti alla gestione Renzi del nostro governo, ovviamente. Renzi ovviamente si difende. In che modo si difende? Che cosa c'è scritto su questa mozione? Il Jobs Act non è una cosa che può essere presa totalmente in modo positivo o in modo negativo. C'è una certezza che è stato un tentativo, secondo me un tentativo lodevole, di muovere per la prima volta dopo decenni il mondo del lavoro. Certamente in molte situazioni si può migliorare ma in altre, ad esempio quelle che riguardano l'inserimento dei giovani con i metodi legati all'apprendistato eccetera hanno sortito anche un risultato molto positivo. Per cui sicuramente è una situazione che può essere migliorata ma certamente va riconosciuto al governo precedente il tentativo di muovere e di sviluppare il mondo del lavoro con una forza che non ha precedenti nei giorni precedenti. Ecco, Orlando punta molto anche sul rilancio degli investimenti pubblici. Quanta necessità c'è nel nostro paese di investire su questo e Renzi dove si colloca a riguardo? Beh, gli investimenti pubblici tradizionalmente in Italia sono stati una parte dell'economia importante e devono continuare ad esserlo. È chiaro che l'investimento pubblico di per sé ha un significato molto vasto può essere un investimento in strutture o addirittura qualcuno sogna a un ritorno dello Stato come datore di lavoro in molte strutture pubbliche o parapubbliche qualcuno sogna persino che l'Italia torni ad essere nazionalizzata. Certamente non può essere questa la strada una sana politica di investimento pubblico è doverosa dopodiché il mercato deve fare la sua parte. Ecco, per Orlando il segretario di partito non deve essere il candidato premier. Perché per Renzi no? Allora, noi abbiamo uno statuto. Nello statuto c'è scritto che il segretario del partito è automaticamente il candidato premier. È ovvio che nel caso si andasse a una coalizione però voglio dire in questo momento il modo con cui si andrà a votare è allo stato attuale una modalità legata al proporzionale quindi è un po' incerta questa scelta. Dopodiché il segretario per il PD è anche il candidato premier. Il ticket Renzi-Martina in qualche modo tende a porre rimedio a questa cosa nel senso che se Renzi vincerà e Martina sarà auspicabilmente da mio giudizio il vice segretario ovviamente ci sarà qualcuno che fin da ora è dichiarato che si occuperà più specificatamente del partito. Ecco, a proposito di partito ovviamente Orlando punta molto al recupero dei nostalgici. Addirittura si tira fuori ancora il nome dell'Ulivo. Torniamo indietro di parecchi anni. Orlando critica molto, la mozione Orlando in qualche modo esclude quelle che sono le larghe intese o comunque queste grosse alleanze, ma piuttosto vuole recuperare quello che è il cuore, secondo loro, del centro-sinistra. Qual è la posizione di Renzi riguardante proprio la natura del Partito Democratico? Evidentemente il Partito Democratico non può prescindere da quello che sarà una legge elettorale. Per cui una legge elettorale con una forte impronta di carattere positivo nei confronti di chi vince le elezioni porterebbe ovviamente il partito ad essere autosufficiente o abbastanza autosufficiente per governare. È chiaro che in una situazione incerta come questa, in cui la legge elettorale non consente o comunque non ancora consente un premio di maggioranza specifico, eccetera, è chiaro che come in tutte le situazioni si dovrebbe andare a negoziare con altre forze politiche. Dopodiché l'esperienza dell'Ulivo è stata un'esperienza storicamente, a mio giudizio, positiva, nel senso che nella sua collocazione spazio-temporale ha avuto un significato molto importante. In questo momento la stessa esperienza non può essere riprodotta tale quale. a questo punto vogliamo ricordare quali sono le date cruciali di quello che sta per avvenire. Il 2 di aprile, per quanto riguarda Voghera evidentemente, il 2 di aprile ci sarà la convenzione di Circolo che andrà a eleggere i delegati dell'Assemblea Provinciale e poi il 30 di aprile lo faremo all'Auser, ci saranno le primarie per il segretario nazionale. Grazie mille, buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti.